Ciao a tutti, se ultimamente siete stati un po' sorpresi da risultati elettorali inaspettati, una delle ragioni è probabilmente il fatto che nella nostra vita tendiamo a escludere, a isolare le persone che non la pensano come noi. Non che lo facciamo perché siamo cattivi, ma una cosa assolutamente normale, cerchiamo di passare più tempo con le persone con cui andiamo più d'accordo. In questa era digitale poi assumono particolare importanza piattaforme come Facebook e Twitter e queste piattaforme hanno una caratteristica che accentua ancora di più questo nostro isolamento dalle persone che non la pensano come noi, perché in pratica, specialmente Facebook, ha la tendenza di mostrarci più spesso post, articoli, notizie scritte dalle persone con cui interagiamo di più, ovvero con le persone a cui mettiamo più like sui loro post, oppure alle persone con cui commentiamo di più, con cui dialoghiamo di più. Se potrebbe anche fare un esperimento, se non siete convinti, andate a guardare la vostra lista di amici. Cercate qualcuno di cui non avete notizie da tanto tempo, i cui post voi non li vedete quasi mai nel vostro feed di Facebook e provate a aprire la loro pagina e mettete like oppure commentate i loro post più recenti. Vedrete da questo momento in poi, inizierete a vederne molte di più, molte più notizie da questa persona. Immagino che Facebook faccia questo per farci star bene, nel senso logicamente ci mette più in comunicazione con le persone con cui andiamo più d'accordo. Però purtroppo questo è l'effetto che noi non ci confrontiamo con le persone che la pensano in modo diverso. Anzi, ancora prima di confrontarci, noi praticamente non sappiamo cosa pensano, non sappiamo che esiste una massa di persone che la pensano in maniera totalmente diversa da noi. Inoltre c'è anche un altro motivo, secondo me, per cui noi tendiamo a non sapere, non avere notizia, diciamo, delle persone che sono diverse, che hanno un pensiero diverso da noi. È il fatto che spesso noi, specialmente se siamo nella parte mainstream, diciamo, nella parte dei molti, ma di noi non personalmente. Però a volte si ha la tendenza di deridere l'opinione diversa. L'opinione diversa o addirittura chi la pensa diversamente. E ne siamo colpevoli un po' tutti. Anche io in primis, quando c'era l'era di Berlusconi, pensavo peste e corna di chi lo votava e se c'era l'occasione di postare qualche notizia che ridicolizzasse Berlusconi o il suo elettorato, lo facevo ben volentieri, perché mi sembrava una cosa giusta, divertente e anche, insomma, sapevo che nessuno dei miei amici lo avrebbe votato, quindi non pensavo di offendere nessuno. Beh, in realtà questo è molto sbagliato. Perché? Beh, perché sicuramente c'è qualcuno che non la pensa come noi su questo, anche dei nostri amici. non lo dice perché... perché magari si sente parte di una minoranza sbeffeggiata, derisa. Nel momento in cui tu dici se voti Berlusconi sei scemo, nessuno ti viene a dire che vota Berlusconi. Allo stesso modo io ho visto, non tanto con il referendum, anzi con il referendum, forse ho visto quasi l'opposto, però diciamo con la Brexit e Trump io ho visto un flusso costante di post da amici miei inglesi e americani che dicevano che la Brexit era un'idea orribile, che chi votasse per la Brexit in pratica non aveva nessuna base o economica o, diciamo, come dire, nessuna logica per votarla. Ecco, sembrava proprio... la facevano passare come l'idea più bizzarra del mondo. Allo stesso modo è stato ridicolizzato Trump e soprattutto chi lo votava, chi lo sosteneva. E queste persone per questo motivo o magari hanno la tendenza di non usare Facebook o vengono... non vedono le nostre notizie, appunto per il filtro che Facebook fa, perché loro certamente non mettono like a notizie del genere e anche se le vedessero, probabilmente non le commentano perché non vogliono essere poi sobbarcati da una marea di insulti. Quindi, beh, non riesco a concludere dandovi buoni consigli, bisogna che ci penso ancora un po', metto a posto le idee in un pensiero più organizzato. Per ora vi ho esposto il problema, che già probabilmente vi è noto, ma in futuro, ecco, magari se mi viene in mente qualche bella idea ve la dico. Vi saluto, buona giornata, ciao ciao!